Non si fermano le provocazioni del regime di Kim Jong-un. La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato da una località nord di Pyongyang. A riferirlo è stato il Ministero della Difesa di Seoul che al momento non ha fornito ulteriori dettagli. Secondo indiscrezioni dei media sudcoreani si tratterebbe di un missile balistico. Il lancio arriva una settimana dopo che Pyongyang ha testato un nuovo missile a medio raggio che secondo gli esperti potrebbe essere in grado di raggiungere l'Alaska o persino le Hawaii.